Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare al resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione vi lascio il link ad un video che spiega appunto come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami. Pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2022. Abbiamo, wow, abbiamo il mondo. Fase di compimento per molti pesci o fase di cambiamento. Il mondo parla sempre di quei cambi che arrivano forse anche un pochettino inaspettati, ma che arrivano comunque per il nostro bene. Arrivano dei cambi che ci portano, diciamo così, ad un livello superiore. Può anche far riferimento a quello che è un cambio a livello di lavoro, piuttosto che un cambio a livello di abitazione. Parla comunque di quelli che sono dei trasferimenti ad ampio raggio, a lunga distanza, diciamo così. Andiamo a vedere perché abbiamo questo mondo qua per voi. Cominciamo con un appeso al contrario, che è una bellissima carta, devo dire, perché essendo al contrario parla comunque di quelli che sono degli sblocchi. Probabilmente c'è qualche cosa che sta per sbloccarsi o si è sbloccato all'interno di una situazione o di una relazione. Abbiamo poi il Papa. Il Papa mi parla di quello che è, se vogliamo, un qualche tipo di lavoro a livello spirituale, assu di coppe, potrebbe anche essere quello che è un'ufficializzazione di un qualche tipo di rapporto, potrebbe essere romantico, come anche lavorativo, magari si parla di quello che è la firma di un contratto, perché comunque anche con questo assu di coppe sento che si va verso quello che è un nuovo inizio, ok? Guardate, abbiamo la ruota della fortuna. Dicevo, si va verso quello che è un nuovo inizio, o perlomeno è quello a cui voi state puntando, è quello, diciamo così, è il vostro obiettivo, se vogliamo. Avere questo nuovo inizio, potrebbe anche essere questa nuova relazione o semplicemente potrebbe fare riferimento al fatto che abbiate voglia di innamorarvi o abbiate voglia di ritrovare quello che è la passione per un lavoro, se la stesa per voi vibrasse a livello lavorativo. La ruota della fortuna parla anche questa come il mondo di cambi, ma sento che in questo momento è una cosa che ancora non viene fatta, c'è questo cambio, questo switch. È vero che qua si sbloccano le cose, ma un cambio proprio definitivo e diciamo concreto, probabilmente è ancora un po' lontano, c'è qualcosa che ancora non gira, come dice la ruota della fortuna, no? È come se ci fosse ancora qualche cosa che è incastrato e potrebbe essere proprio a causa della giustizia. Quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento a qualche tipo di foglio, a qualche tipo di burocrazia che magari va un po' a rilento, ok? Però ricordo che qui avevate l'appeso al contrario, quindi si parla di sblocchi. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono, perché la giustizia può anche parlare di un qualche tipo di taglio che è necessario fare, ok? Ed è magari per quello che poi arriva questo tipo di sblocco, o meglio, lo sblocco vi permette di, andando in questa direzione, di fare quello che sono i tagli delle cose che non servono più. Per qualcuno può anche fare riferimento alle cose che sono nascoste, alle cose che non si sanno, alle cose che vengono a galla. Il nove di pentacoli è una bellissima carta, mi parla comunque di abbondanza, mi parla comunque di indipendenza, di autostima, di sapersi prendere cura di se stessi, ok? Quindi è una carta che mi parla di quello che è un vostro star bene, una presa di potere, o comunque se è una cosa che ancora, diciamo, non sentite, è una cosa che arriverà. Quindi state sereni, state tranquilli che questo cambio ci sarà. Terminiamo la stesa con un bellissimo asso di bastoni e un re di bastoni. Quello che sento io qui con questo asso di bastoni è che ci sarà un qualche tipo di… potrebbe essere un incontro per qualcuno, ok? E questo re di bastoni potrebbe rappresentare la persona che andrete a incontrare, o potrebbe essere semplicemente quello che è la decisione, se vogliamo, di iniziare qualche cosa di nuovo con un'azione decisa, un'azione passionale, un'azione concreta, ok? Andiamo a vedere nello specifico che cosa vogliono dire queste carte per voi, ok? Perché comunque si tratta solo di, per, diciamo così, far sì che questa ruota della fortuna lavori in modo produttivo per voi, che quindi arrivi questa fortuna, bisogna muoversi in questa direzione, bisogna fare questo tipo di azione concreta di come mi parla l'asso di bastoni. Andiamo a vedere, ok. Allora, l'appeso al contrario è spiegato dal giudizio e dalla sacerdotessa. Allora, potrebbe parlarmi di un qualche tipo di situazione nel passato, perché con il giudizio e la sacerdotessa si fa riferimento anche a qualche situazione, diciamo, del passato. Lo sento di più come una presa di… perché la posizione dell'appeso, l'appeso diciamo in una posizione normale, è quella carta che vi dice che bisogna riconsiderare la situazione, bisogna cercare di vedere la situazione da un altro punto di vista. E qui, comunque, con queste due carte io sento che ce la fate. Ecco perché adesso è girato al contrario e si parla di sblocco. Perché avete avuto quello che è una illuminazione, una presa di coscienza, un lavoro interiore, un aumento, diciamo così, delle vostre vibrazioni, è come se ci fosse stata una presa di consapevolezza che vi permette o vi ha permesso, diciamo così, di sbloccare questo tipo di situazione o di relazione. Andiamo a vedere perché c'è il Papa, per piacere, grazie. Wow, due di coppe, due di coppe, cavaliere di coppe, wow! Sì, per molti si tratta di una relazione romantica, perché qui comunque sotto al Papa abbiamo un bel due di coppe, un bel cavaliere di coppe e un tre di bastoni. Quindi io qui sento che c'è qualcuno che sta progettando quello che è l'ufficializzazione di un qualche unione, che non è detto che sia per forza il matrimonio, potrebbe anche semplicemente essere una convivenza per esempio, oppure se è una relazione che è iniziata da poco, queste tre carte potrebbero anche voler dire che è arrivato il momento di presentare il vostro partner o la vostra partner agli amici, alla famiglia, insomma. Parla anche di quel tipo di ufficializzazione lì. Però comunque si stanno facendo dei progetti insieme. Andiamo a vedere l'asso di coppe, per piacere, grazie. Allora l'asso di coppe è spiegato dal mago al contrario e dal quattro di bastoni al contrario. Ecco, quindi si stanno facendo dei progetti, ma probabilmente diciamo che si è ancora lontani da quel tipo di inizio pieno, abbondante, se vogliamo, che magari voi vorreste. Il mago in sé parla di quello che è la manifestazione. Sendo al contrario, sento che per qualcuno potrebbe esserci qualche energia un po', diciamo bloccata, un po', come se non si sapesse bene da che parte andare per manifestare quello che è la propria realtà e quello che volete voi, che è l'unione felice, la stabilità. È come se questa cosa ancora non fosse palpabile, non fosse tangibile. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna, di cosa mi parla, due carte per piacere, grazie. Abbiamo un sette di bastoni e un tre di spade. Qui c'è qualche cosa che non va avanti inerente a un qualche tipo di sofferenza, a un qualche tipo di dolore che c'è stato. Sento che questa ruota della fortuna è lì per farvi cambiare, probabilmente. Sento che con questo sette di bastoni siete molto impegnati a difendere quello che sono le vostre idee. Per certi versi difendere anche quello che è il vostro dolore. E va anche bene, nel senso che quando ci sono quelle persone che sminuiscono il dolore, ma sì, ma succede a tutti, ma lasciatela perdere. Avete bisogno di esprimere il vostro dolore, avete bisogno di purgare, avete bisogno di piangere, fatelo, perché è giusto buttarlo fuori. E io sento che c'è qualche tipo di lotta che voi state facendo a livello personale nei confronti di quello che è il mondo esterno, che vi sta creando, voleva uscire, ecco, vi sta creando questo tipo di dolore, questo tipo di senso di colpa, perché l'otto di spade parla molto di quello che potrebbe essere il senso di colpa, di quello che potrebbero essere i pensieri tossici, e quindi ecco perché da lì questo tre, questo tre di spade, probabilmente c'è qualcuno che è come se, ok, ci sono, sto quasi raggiungendo il mio sogno, ma è troppo bello per essere vero. Ci deve essere sicuramente il trucco, il barbatrucco, no? Perché quando qualche cosa è troppo bello per essere vero, noi siamo dei campioni ad autoboycottarci, e di fatti ecco l'otto di spade. Andiamo a vedere la giustizia. Wow, abbiamo gli amanti, quindi abbiamo già amanti, abbiamo i due di coppa, abbiamo il giudizio, abbiamo la ruota della fortuna, un quattro di bastoni, per qualcuno fa riferimento a un qualche tipo di anima gemella. Allora, per la giustizia, per la giustizia abbiamo gli amanti e il sette di spade. La giustizia, come dicevo prima, come ho accennato prima, parla di delle cose nascoste che vengono a galla, anche se per qualcuno potrebbe fare riferimento a qualche tipo di burocrazia. Però abbiamo un sette di spade e abbiamo la carta degli amanti. Qui quello che sento è che c'è qualche cosa che viene a galla o sì o sì, perché il sette di spade parla di quelle che sono le bugie, parla di quelle che sono i comportamenti poco cristallini, parla anche di quelli che sono i furti. Quindi se avete davvero qualche tipo di questione legale in piedi, fate attenzione alle scritte in piccolo, fate attenzione ai furti, letteralmente, al fatto che qualcuno non metta, diciamo, qualche tipo di frase che possa poi farvi perdere qualche cosa a livello pratico, ok? E abbiamo la carta degli amanti. Io qui quello che sento è che c'è da tagliare, come vi ho accennato prima, qualche cosa con la giustizia, perché gli amanti parla di quello che è un amor proprio, parla di quello che è fare una scelta secondo il cuore. Sento, allora ho la forte impressione che qui ci sia qualcuno che stia aspettando un movimento da parte di questo cavaliere di coppe, che questo movimento comunque non ci sia così come ce lo si aspetta, si vengono a scoprire delle cose, ed è per quello che probabilmente c'è la ruota della fortuna in questa posizione, perché le cose non cambiano come vorreste voi probabilmente, ok? Andiamo a vedere il 9 di Pentacoli, per piacere, grazie. Guardate, abbiamo un altro 9 di Pentacoli. Allora sì, qui sento che questo 9 di Pentacoli fa riferimento un po' con questo 7 di coppe al contrario, a quelle che sono le illusioni della materialità. È vero, probabilmente siete in una fase di abbondanza economica, vi sentite magari indipendenti o comunque ha a che fare tutta questa giustizia e questo asso di bastoni con quello che è la vostra indipendenza a livello economico, a livello emotivo, a livello mentale ed emotivo anche. Però sento che siete un po' intrappolati da quelle che sono le illusioni, cioè il fatto di... la carta del 7 di coppe fondamentalmente parla proprio di quelle che sono le illusioni a livello materiale. Non so se si riesce a vedere, vediamo una... ecco, forse così. Le coppe sono piene di cose di donne, sono piene di... questa è la casa, questi sono i gioielli, questo è successo. Spero, non riesco a farvela vedere. Ecco, forse così. Quindi questa carta rappresenta quello che sono le illusioni delle cose materiali ed è al contrario. Quindi sento che per certi versi è come se vi stesse cadendo quella che è l'illusione di star bene, di... in questa vostra indipendenza apparente è come se in realtà non vi desse quello che è un reale appagamento emotivo. Ma sento che qui c'è questa... questa zona della lettura mi parla proprio di qualche cosa che viene fuori e che bisogna lasciare indietro. Perché guardate, la giustizia parla di mettere in equilibrio, di tagliare quello che non serve e di qualche cosa che viene fuori. Gli amanti parlano di una scelta, di lasciare indietro quello che non serve e il 7 di spade parla proprio di quello che sono le bugie, le menzogne, di quelli che sono i comportamenti poco chiari e i furti. Quindi io qui sento che in questa zona della lettura ci sarà un primo o un dopo. Vi renderete conto che forse la vostra stabilità o quello che voi pensate essere una vostra stabilità in realtà non è poi così concreta. E con questo asso di bastoni, adesso vediamo che carte mi danno, ma io... eccola qua, la ruota della fortuna. Fante di coppe e ruota della fortuna. Io sento che qui dovrete fare un'azione di tipo concreto, anche veloce, perché sento che i bastoni molte volte parlano anche di quello che è l'impulsività, ok? Quindi sento che qui qualcuno si muoverà in qualche tipo di direzione. Non... il fante di coppe molte volte sono persone che chiedono, tornano per chiedere scusa, ma in questo caso, essendo al contrario, sento che è come se non ci fosse questo tipo di chiacchiere, ok? Questo tipo di pentimento. E abbiamo di nuovo la ruota della fortuna. Qui con questa vostra azione le cose cambieranno. La ruota della fortuna da qua si sposta qui. Quindi da quello che era questa posizione non proprio positiva, si arriva a quello che è un cambio reale, che è un po' quello di cui parla il mondo. Il mondo parla di un cambio proprio del proprio mondo, ok? Andiamo a vedere l'ultima carta. Allora, il re di bastoni è spiegato da un cavaliere di spade ed è un 2. Ed è un 2 di pentacoli. Allora, sì, questo cavaliere, scusate, questo re di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona, ripeto, una persona che entra nella vostra vita o la persona potrebbe anche essere dell'inizio della stesa, ok? Quello che sento è che una persona determinata, una persona che va dritto per il suo scopo, come dice anche il cavaliere di spade, però ecco, forse è una persona con la quale non... bisogna fare un attimino di attenzione, perché il 2 di pentacoli parla sempre di quello che sono un po' i disequilibri, se vogliamo, no? Il fatto di doversi barcamenare in più situazioni e cose di questo genere. Per certi versi parla anche del fatto che bisogna iniziare a prendere la vita con un po' più di filosofia, con un po' più di gioco, che è quello che fondamentalmente non fa il cavaliere di spade. Quindi interessante l'abbinamento, quindi potrebbe essere una persona che sempre... perché comunque anche questa energia di fuoco, le figure diciamo dell'energia di fuoco, dei bastoni, sono comunque anche persone allegre, sono persone a cui piace divertirsi, quindi potrebbe essere anche un lato di questa persona. Magari è una persona che incontrerete che è determinata, che sa che obiettivi vuole raggiungere nella vita e va dritto verso gli obiettivi, ma questo non vuol dire che sia una persona seria, potrebbe avere qualche tipo di, diciamo così, disequilibrio, oppure semplicemente potrebbe anche essere una persona a cui piace ridere, a cui piace scherzare, è una persona leggera, allegra insomma. Bene. Andiamo a vedere con Osho che cosa si vede e che cosa non si vede, quindi il conscio e l'inconscio. Io intanto volevo ringraziarvi per il supporto che mi date e se per caso volete supportarmi ancora, potete mettere un like, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere e lasciarmi un commento. Bene. Due carte per gli amici dei pesci, eccole, grazie. Coscienza e celebrazione. Wow! La coscienza è la carta della forza. Scusate, è la carta del carro. Quello che sento è che siete coscienti, appunto, del fatto che è ora di uscire da questo tipo di situazione, è ora di prendere in mano le redini della vostra vita, prendere in mano le redini della situazione. Avete tutte le carte in regola per farlo, avete tutte le risorse che si possono, di cui si possono aver bisogno, il punto è fare questo tipo di scelta, fare questo tipo di azione feconda. Quello di cui non siete consapevoli è il 3 di coppe, ovvero da un lato può essere che avete il suo segno dei vostri amici, perché il 3 di coppe normalmente fa riferimento a quello che sono le amicizie, oppure dall'altro lato potrebbe fare riferimento al fatto che avete la vittoria in tasca e non ve ne rendete conto, perché comunque è una carta che parla di celebrazione. Sento anche gratitudine, mi dicono gratitudine, quindi potrebbe anche essere che qualcuno ha bisogno di consapevolizzare tutta l'abbondanza che già ha. Come se per qualcuno ci fosse questo bisogno, insomma, di prendere coscienza, di prendere consapevolezza che comunque, per quanto non si abbia quello che si vuole, come lo si vuole, però comunque si è in una situazione di forte abbondanza. Vi ricordo che comunque avete un asso di coppe che comunque sono gli inizi, parla appunto di quello che la coppa è piena, quindi è un segno di abbondanza. Avete comunque il 9 di pentacoli, parla anche quello di un'abbondanza monetaria, ok? E poi avete due volte la ruota della fortuna, avete il mondo, quindi sì. Bene, un ultimo messaggio per gli amici dei pesci, vediamo che cosa hanno ancora da dirvi le fatine, in chiusura della lettura, due carte per gli amici dei pesci, per piacere grazie, ok. La prima carta è Essenza, wow! Questa carta mi ricorda molto l'energia della carta del sole, che parla proprio di quello di Essenza, e mi viene un po' da dire, cercate di brillare da dentro, ok? Quello che è la vostra Essenza, esternatela. E infatti qui c'è esteriorizzazione, ma va che caso! Quindi brillate da dentro, buttate fuori quello che è la vostra luce interiore. E poi abbiamo co-creazione. Questa è una bellissima carta, perché parla di creazione, ma co-creazione sottintende il fatto che si sia consapevoli dei pensieri che si fanno, perché si sa, si è consapevoli che il pensiero crea, il verbo, la parola crea, di conseguenza si procede a quello che è una creazione cosciente della propria realtà, attraverso quello che è la gestione dei propri pensieri. Quindi non pensare cose o non dire cose solo perché si sentono dire in giro, quindi sono tutti uguali o sono tutti uguali o cose di questo genere, perché state creando un qualche tipo di realtà ben definita. Quindi focalizzarvi sul pensiero, non lo so, ipotesi, arriverà la donna della mia vita o arriverà l'uomo della mia vita o cose di questo genere, fa sì che voi creiate un altro tipo di realtà. Bene, cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!